Da 0-1, da 0-1... Da 0-1... Da 0-1... Da 0-1... FBI! FBI! Esci dal bagno! Vieni subito fuori dal bagno! Mani sopra la testa! Ha visto quella? La nuova marcatrice IDM Select! Mettile mani sopra la testa! Si possono cambiare i caratteri in 5 secondi! Basta togliere la pallina! Mani sopra la testa! Mani sopra la testa! Ha oltre 200 assegni qui! Mani sopra la testa! Colla liquida, carta... Ha perfino indirizzato... Mettila giù! Mettila giù! Lasciala! Calmati! Arrivi tardi! Chiaro? Il mio nome è Allen. Barry Allen. Servizi segreti degli Stati Uniti. Il tuo uomo ha appena tentato di svegnarsela dalla finestra in stato di arresto di sotto... Non so di che cosa parli! Come? Credevi che solo l'FBI desse la caccia a questo tipo? Non scherziamo, dai! Sguazzi in assegni governativi! Serviamo una pista di pezzi di carta da... da mesi ormai! Ehi, ti dispiace togliermi quella pistola dalla faccia, per favore? Veramente, mi rendo nervoso! Fammi vedere un documento! Sì, certo! Prendi pure tutto il portafogli! Vuoi anche la mia pistola? Vieni, prendi la mia pistola! Ehi! Ehi! Guarda! Fammi un favore! Da un'occhiata fuori! Guarda! Guarda fuori dalla finestra! Il mio collega lo sta accompagnando la macchina in questo momento! Guarda! Il vecchio se l'è quasi fatta nei pantaloni quando sono entrato qui! È saltato dalla finestra e per poco non è finito sul cofano della mia macchina! Ehi, Marf! Sì? Richiama la polizia! Non voglio inviavai di gente sulla scena del reato! Non... Non mi aspettavo i servizi segreti in questa storia! Non preoccuparti! Come ti chiami? Enreti! Carl Enreti! Ti dispiace farmi vedere il distintivo? Figurati! Scusa, ma non sei mai troppo prudente oggigiorno! Eh, che sfortuna, Carl! Cinque minuti prima avresti beccato un pesce grosso! Non fa niente! Dieci secondi dopo ti beccavi una pallotta! Ti dispiace se vengo di sotto con te? Voglio vederlo bene in faccia quel tipo! Ma certo! Figurati! Però fammi solo un favore! Resta qui un momento mentre porto queste prove di sotto! Sai, non vorrei che qualche cameriera entrasse e si mettesse a rifare la camera! La polizia dovrebbe arrivare a momenti! Aspetta! Il tuo portafogli! Tienilo tu finché non torno! Mi fido! Sì! I servizi segreti! Sì! 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 Ma porca miseria! Sì! 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 Sì!